Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia Insieme. Noi siamo qui per leggere la Sacra Scrittura, manca davvero poco per concludere l'intera parola di Dio. Quest'oggi noi leggeremo sempre dalla parola di Dio. Ecco che io sto qui con la Bibbia aperta e noi leggeremo la seconda lettera di Pietro. Ci sono soltanto tre capitoli, quindi in questa puntata, il primo, il secondo e il terzo capitolo della seconda lettera di Pietro. Quindi andiamo subito a leggere la parola del nostro Signore. Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Grazie, grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù, il nostro Signore. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita, la pietà, mediante la conoscenza di Colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Voi per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo, ma colui che non ha queste cose è cieco oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dei suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a rendersi cura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai. In questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Perciò, avrò cura di ricordarvi continuamente queste cose, benché le conosciate e siate saldi nella verità che è presso di voi. E ritengo che sia giusto, finché sono in questa tenda, di tenervi besti con le mie esortazioni. So che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come il Signore nostro Gesù Cristo mi ha fatto sapere, ma mi impegnerò affinché dopo la mia partenza abbiate sempre modo di ricordarvi di queste cose. Infatti, vi abbiamo fatto conoscere la potenza e l'avvenuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della Sua Maestà. Infatti, egli ricevete da Dio Padre onore e gloria, quando la voce giunta a Lui dalla magnifica gloria, gli disse, «Questi è il mio diletto figlio, nel quale mi sono compiaciuto». E noi l'abbiamo udita questa voce che viene dal cielo quando eravamo con Lui sul Monte Santo. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda, «Farete bene a prestarle attenzione, come a una lampada esplendente in luogo oscuro, fino a quando i spunti, il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori». Sappiate prima di tutto questo che nessuna profezia della scrittura proviene da una interpretazione personale. Infatti, nessuna profezia non viene mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. Seconda Pietro, capitolo 2 «Però ci furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori, che introdurranno occultamente eresie di perdizione e rinegando il Signore che li ha riscattati, si attireranno addosso una rovina immediata. Molti li seguiranno nella loro dissolutezza e a causa loro la via della verità sarà diffamata. Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole false, ma la loro condanna già da tempo è all'opera e la loro rovina non si farà aspettare. Se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò, confinandoli in antri tenebrosi per esservi custoditi per il giudizio, se non risparmiò il mondo antico ma salvò altre sette persone, Noè, predicatore di giustizia, quando mandò il diluvio su un mondo di empi, Se condannò alla distruzione le città di Sodoma e Gomorra, riducendole in cenere perché servissero da esempio a quelli che in futuro sarebbero vissuti empiamente. E se salvò il giusto lot che era rattristato dalla condotta dissoluta di quegli uomini scelerati. Giusto, infatti, per quanto vedeva e udiva, quando abitava tra di loro, si tormentava ogni giorno nella sua anima, giusta a motivo delle loro opere inique. Ciò vuol dire che il Signore sa liberare i pi dalla prova e riservare gli ingiusti per la punizione nel giorno del giudizio. E soprattutto quelle che vanno dietro alla carne nei suoi desideri impuri e disprezzano l'autorità, audaci, arroganti, non hanno orrore di male delle dignità. Mentre gli angeli, benché superiori a loro per forza e potenza, non portano contro quelle davanti al Signore alcun giudizio ingiurioso, ma costoro come bestie prive di ragione, destinate per natura a essere catturate e distrutte, dicono male di ciò che ignorano e periranno nella loro propria corruzione. Ricevendo il castigo come salario della loro iniquità, essi trovano il loro piacere nel gozovigliare in pieno giorno, sono macchie e vergogne, godono dei loro inganni mentre partecipano ai vostri banchetti. Hanno occhi pieni di adulterio e non possono smettere di peccare. Adescano le anime instabili. Hanno il cuore esercitato alla cupidigia. Sono figli di maledizione. Lasciata la strada diritta, si sono smarriti seguendo la via di Balaan, figlio di Beor che amò un salario di iniquità. Ma fu ripreso per la sua prevaricazione. Un'asina muta parlando con voce umana represse la follia del profeta. Costoro sono fonti senza acqua e nuvole sospinte dal vento. Allora è riservata le caligine delle tenebre, con discorsi pomposi e vuoti, addescono mediante i desideri della carne e le dissolutezze quelle che si erano appena allontanati da coloro che vivono nell'errore. Promettono loro la libertà, mentre essi stessi sono schiavi della corruzione, perché uno è schiavo di ciò che lo ha vinto. Se infatti dopo aver fuggito le corruzioni del mondo, mediante la conoscenza del Signore Salvatore Gesù Cristo, si lasciano di nuovo avvilluppare in quelle e vincere la loro condizione, ultima diventa peggiore della prima. Perché sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della giustizia che, dopo averla conosciuta, voltare le spalle al santo comandamento che era stato dato loro. E' avvenuto di loro quello che dice con verità il proverbio. Il cane è tornato al suo vomito e la scroffa lavata è tornata a rotolarsi nel fango. Seconda Pietro, capitolo 3 Carissimi, questa è già la seconda lettera che vi scrivo e in entrambe io tengo desta la vostra mente sincera, facendo appello alla vostra memoria, perché vi ricordiate le parole già dette dai santi profeti e il comandamento del Signore e il Salvatore trasmessovi dai vostri apostoli. Sappiate questo, prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno i schernitori beffardi, i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi e vi diranno, dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Ma costoro dimenticano volontariamente che nel passato, per effetto della parola di Dio, esistetero dei cieli e una terra tratta dall'acqua e sussistente in mezzo all'acqua, e che per queste stesse cause il mondo di allora sommerso dall'acqua perì, mentre i cieli e la terra attuale sono conservati dalla medesima parola riservate al fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione degli empi. Ma voi, carissimi, non dimenticate questa unica cosa. Per il Signore un giorno è come mille anni, e mille anni sono come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Il giorno del Signore verrà come un ladro, in quel giorno i cieli passeranno, stridendo gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra, le opere che sono in essa saranno bruciate. Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi per santità di condotta e per pietà. Mentre attendete e affrettate la venuta del giorno di Dio, in cui i cieli infocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno. Ma, secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e una nuova terra, nei quali abiti la giustizia. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili nella pace. E considerate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto secondo la sapienza che gli è stata data, e che questo egli fa in tutte le sue lettere in cui tratta di questi argomenti, in esse, ci sono alcune cose difficili a capirsi, che gli uomini ignoranti e instabili travisano a loro perdizione, come anche le altre scritture. Voi, dunque, carissimi, sapendo già queste cose, state in guardia per non essere trascinati dall'errore degli scelerati e scadere così dalla vostra fermezza, ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora e in eterno. Amen. Parola del nostro Signore. Io ringrazio il Signore per questa puntata e ti do l'appuntamento perché noi possiamo andare subito alla prossima puntata e continuare a leggere la parola del Signore insieme. Dio ti benedica nel nome di Gesù. A Lui sia la gloria, ora e in eterno.